Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale di Stilograficamente, il canale riservato al mondo delle stilografiche. Oggi prenderò in esame con voi questa Parker Victory Mark IV, una penna che mi è stata gentilmente prestata da Domenico 98, che ringrazio tantissimo, ciao Domenico, ed è una penna prodotta nel 1951, in particolare nel primo trimestre del 1951. Come faccio a dirlo? Perché, come potete notare, c'è un 1 circondato da tre puntini. I puntini vanno a decrescere per ogni trimestre, quindi quando ci sono tutti, il trimestre è il primo. Quando se ne toglie uno, secondo trimestre. Quando se ne tolgono due, terzo trimestre. Quando si tolgono tutti e tre, è il quarto trimestre. Quindi un 1 senza puntini sarebbe il quarto trimestre dell'anno. Una penna prodotta tra il 1948 e il 1952, l'unico anno con l'uno finale è il 1951. Parker Victory, made in England. E, diciamo, questa manifattura è confermata anche da questa lettera che compare sotto. Parker, 14K, pen, n. N. sta per New Haven, che è una città situata nell'East Sussex, in Inghilterra, si affaccia sulla manica, ed è un punto strategico per tutto quello che riguarda i rapporti con l'Europa, proprio perché si affaccia sulla manica. Va bene, è la figlia della collaborazione tra Parker e Valentin Pen Company, per cui una, se vogliamo, una partnership che andava in voga in quegli anni. I primi modelli di Parker Victory erano prodotti con una clip che terminava con una punta a sfera ed erano in fantasie marmore. Poi successivamente con la Mark IV è stata introdotta la clip a punta e qualche anno più tardi si è arrivati alla punta a forma di freccia, che è la classica clip della Parker, così come noi la conosciamo in era moderna. Vediamo come si carica questa penna, cioè non ve la carico perché è già carica, Domenico me l'ha fornita con un inchiostro già all'interno, poi vediamo quale. Pulsante di fondo come meccanismo di caricamento e funziona in questo modo, vabbè, svitate il cappuccio cieco come avete visto, premete il pulsante che fa leva su una i-bar, perché questa barra che è all'interno schiaccia la vescichetta e il sacchetto di inchiostro in maniera tale che possa risucchiarlo, per cui termina con, diciamo, la convoglia verso il pulsante. Quando si preme il pulsante si flette questa i-barra che tende a schiacciare il sacchetto, creando una depressione all'interno del sacchetto che poi, una volta rilasciato, risucchia l'inchiostro. Penna molto particolare, guardate il pennino che ha, a detta di Domenico, l'ha acquistata così com'era e non l'ha più cambiata, vedremo poi perché. Non ha più cambiato il pennino, non ci ha messo mano. Viene da un mercatino dell'Inghilterra. Devo dire che è stato piuttosto fortunato, vale a dire, vabbè, io adesso non l'ho ripulita né lucidata più di tanto. Qui, come potete vedere, è un po' mangiucchiata sul fondo, è una penna che ha i suoi anni. Però, a parte questo, vi faccio vedere come funziona, perché è una vera chicca. Allora, Parker, Victory, Mark 4, sembrava un 10 ma è una V, Mark 4, che sta scrivendo con un Hiroshizuku, Asagao, o almeno così mi ha detto Domenico. Pennino 14 carati, in oro. vediamo come si comporta in termini di continuità del flusso. Vado subito a stressare il rilascio di inchiostro per vedere se riesco a ottenere uno skipping, ma nemmeno se mi impegno, perché è veramente il flusso è abbondante. Direzioni di scrittura. Dal basso verso l'alto non gratta, da destra verso sinistra nemmeno, dall'alto verso il basso non gratta, da sinistra verso destra nemmeno, anche con la mia mano che è la sinistra. In termini di variazione di tratto, provo a zoomare un pochino, leggero, un po' più calcato e vediamo che comunque si riesce ad ottenere una discreta variazione di tratto, con la dovuta cautela, perché sennò mi andate a piegare, anche se è rigido come pennino, mi andate a piegare i rebbi. Vediamo com'è il rilascio del flusso. Veramente, veramente abbondante. Veramente un pennello, come dice sempre Domenico, e sono decisamente d'accordo con lui. Allora, aspetti positivi della penna. Beh, questa penna Domenico l'ha pagata a un prezzo irrisorio perché viene da un mercatino, con un minimo di lucidatura, un minimo di pulizia, viene fuori come nuova. La scrittura è perfetta, un pennino molto abbondante, che non va bene per chi, ad esempio come me, è un mancino che però magari scrive sopralinea, quindi tende a trascinare la mano sul foglio, almeno che non l'abbiniate a un inchiostro meno, diciamo, scorrevole, come l'iroshizuku, quindi qualcosa di un po' più denso, e magari un foglio di carta che trattiene, assorbe un po' l'inchiostro. Io non ne vedo la ragione, perché sinceramente preferisco molto di più scrivere sovralinea, sforzarmi un attimino per non macchiare e avere questo splendido blu intenso con un rilascio di inchiostro che vi favorisce qualsivoglia tinta vogliate apprezzare. State scrivendo, sembra non più con una penna stilografica, ma con un pennello, e questo secondo me è un gran pregio. Il pennino è un pennino in oro, come avete notato prima, non ho idea se tutti i pennini delle Parker Victory siano settati in questo modo, siano impostati in questo modo, cioè un leggermente flessi verso il basso, vedete questa sorta di curvatura strana che fa il pennino, non so se, non sappiamo, perché ho chiesto anche a Domenico se questa è il risultato di una lavorazione fatta artigianalmente sul pennino, oppure la penna nasceva così. Non ho altri esemplari con cui confrontarla, però che guai a toccarlo, cioè scrive benissimo. Aspetti non proprio positivi che mi piacciono meno, le dimensioni della penna, ne fanno una penna da taschino, principalmente non ha dimensioni importanti, e spiuma come rilascio d'inchiostro su una carta di medio-bassa qualità, per cui o scrivete su una rodia dove comunque lo spiumaggio è fortemente scoraggiato, altrimenti, vedete quanto è abbondante, scrive come un doppio broad fondamentalmente, quindi una scrittura, necessita una scrittura un po' più larga della mia, proprio per evitare queste pienezze nelle lettere, cioè come potete vedere una E che sembra quasi una C, per cui ci vuole una scrittura forse un po' diversa dalla mia, un po' più grande, non va bene per scritture minute, questo tipo di rilascio d'inchiostro. Il pulsante di fondo con i bar offre un riempimento limitato dell'inchiostro, per cui abbinandolo a un flusso copioso abbondante come in questo caso, insomma, vi mette nelle condizioni di dover girare con una poccetta, penso. Non ho molta esperienza perché non l'ho dovuta ricaricare, quella che mi ha dato ha mantenuto come carica e ce l'ho da un paio di settimane circa, quindi non parliamo di poco tempo fa. Va bene, vediamo una votazione finale, scrivo prima tutte le caratteristiche e poi le commentiamo per un amor di brevità. Ok, allora, cominciamo col commentarle una a una, flusso 10 su 10, beh, non ci sono dubbi, se cercate un flusso abbondante questa penna fa per voi, vi rilascio tutto l'inchiostro che volete per renderlo brillante. La livrea per me becca un 7 su 10 per due motivi, il primo perché è un po' mangiucchiata sul fondo, non so se riesco a inquadrarvelo, però qualcuno si è divertito con i denti, qualcuno che probabilmente non apprezzava abbastanza la penna stilografica, non la teneva in alta considerazione, per cui è mercato dell'usato, queste cose succedono, io sinceramente, sapendo che questo pennino avrebbe scritto in questo modo, l'avrei comprata a occhi chiusi, però comunque tra questo e un colore che ne fa un grigio quasi militare, che non è molto affine, perlomeno con il mio gusto, le do un 7 su 10, che comunque è un voto discreto. La clip non presenta fattori particolarmente originali, abbiamo questa scritta Parker un po' retro, con due righe che tendono a un triangolo che tende a congiungersi in punta, una clip non molto originale, fa il suo lavoro, però per me becca un 7 su 10, non facilita più di tanto, senza né arte né parte, ecco, una clip che esteticamente avrebbe potuto essere un po' più originale. Distribuzione del peso, prende un 9 su 10, perché comunque il meccanismo consente un bilanciamento quasi perfetto. In termini di impugnabilità, ancora una volta, qui prende un 10 su 10, perché avete una filettatura che vi fa più d'antiscivolo che darvi fastidio. Cioè, io la posso impugnare anche a questa altezza senza provare nessun senso di fastidio, anzi, una presa migliore sulla penna. Qualora sia abituato a prenderla più verso la punta, comunque mi aiuterà questa svasatura della sezione, che tende a andare un po' all'infuori, verso il tratto finale. Quindi per me un'impugnabilità 10 su 10. La penna senza cappuccio raggiunge delle dimensioni proprio al limite, col cappuccio calzato potete tranquillamente usarla, anche avendo mani più uguali o più grandi alla mia. La manutenzione ordinaria per me becca un 6 su 10, perché essendo un pulsante di fondo vi ci voglio vedere a pulirla approfonditamente. Quindi se volete cambiare tinta d'inchiostro, insomma, non è proprio banale. Ci vuole un po' di competenza in più della mia, soprattutto sul vintage. Rapporto di qualità-prezzo? Beh, per me è un 9 su 10, perché trattandosi di un mercatino delusato, questa con un minimo di accorgimenti, domenico la riporti come nuova, un po' di lucidatura sulla clip, se non ci hai già dato tu un pensiero, un poco di lucidatura del fusto e del cappuccio, insomma, è godibilissima. Feedback smoothness? Quindi il ritorno o la dolcezza del tratto, qui non posso dare meno di 10 su 10, 10 lode sarebbero. Con una media finale, mi sembra piuttosto onesto, darle un 8,5 su 10, un 8,5 su 10. 8,5 ho considerato che, dal punto di vista estetico, questa penna per me manca di qualcosa, ma è il mio gusto personale, per qualcun altro che adora questa tinta, questa penna passa da un 8,5 a un 10 su 10, di sicuro, perché quello che deve fare una stilografica è scrivere bene, e questa penna, senza dubbio, scrive benissimo. Grazie per aver visto questo video, ringrazio soprattutto Domenico 98 per avermi prestato questo gioiellino, e al prossimo video, stilograficamente parlando. Ciao a tutti!